Negli ultimi anni l'agricoltura 4.0 si è sviluppata e diffusa molto velocemente e secondo me Agricolus è riuscita a fornire utilità agronomica oltre alla semplice registrazione delle operazioni di campo. Io mi chiamo Riccardo Vignoli, lavoro per Agrisfera. Sono Alessandra Miserocchi e lavoro in Agrisfera come impiegato tecnico responsabile dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura 4.0. Agrisfera fa parte delle cooperative agricole della provincia di Ravenna. Siamo circa 120 soci e insieme coltiviamo circa 4.000 ettari di terreno. Oltre all'azienda agricola fa parte di Agrisfera una stalla da bovini da latte di oltre 1.000 capi, l'agriturismo e due impianti di biogas. Per Agrisfera il tema dell'ambiente è un tema importante. Circa un terzo dell'azienda agricola, quasi 1.300 ettari, sono condotti col metodo biologico. Agrisfera dal 2010 ha iniziato a investire sull'agricoltura di precisione, acquistando le prime guide. Da qui l'esigenza di trovare un software per poter organizzare i dati e soprattutto per poter poi programmare tutte le attività agricole. Abbiamo conosciuto Agricolus partecipando ad un incontro di Agricoltura Smart del Politecnico di Milano e abbiamo avuto il piacere di conoscere Andrea Crociani che ci ha parlato di Agricolus e delle sue potenzialità. Utilizziamo Agricolus principalmente per le foto satellitari e in generale il monitoraggio delle colture. Gli indici vegetativi forniti dalle foto satellitari sono molto utili in quanto ci aiutano a capire meglio la disomogeneità all'interno dei nostri campi e a gestire gli input agronomici in campo in maniera mirata, puntuale e nelle tempistiche giuste. Consiglierei Agricolus a chiunque voglia migliorare la gestione aziendale e apportare innovazione tecnologica in quanto è facilmente utilizzabile da chiunque sia per chi è meno esperto in tecnologia sia invece per chi riesce agevolmente ad utilizzare lo smartphone in quanto si può utilizzare facilmente l'app di scouting fornita da Agricolus per essere maggiormente precisi anche in campo. Grazie a tutti i nostri spettatori